Mettici un asso, capiranno tutti che significa. Asso, Enlon. Sarà meglio che ci metti anche me il mio amico Eugene. Eugene, come si scrive il tuo nome? Io non ho aperto bocca e non partecipa a nessuna gara. La sentite questa puzza? Qualcuno ha portato qui dentro un coniglio. Io la faccio fuori cadere su pistola con le mie mani. Vedi, è un duello con le pistole. Ne abbiamo una per uno. Puntiamo, spariamo e ti ammazzo. È facile da morire. La gara inizia domani per la strada, non qui dentro. Scrivici il mio nome lassù. Nessun altro? Sente Cantrell. Come si scrive? Senza sbagliare. Nessun altro? Cavallo pezzato. Molti uomini bianchi lasceranno città in scatola di legno. Bene, cavallo pezzato.